La prima vittoria nel mondiale è un traguardo molto importante e la 500 era veramente una moto da matti Il 2001 è stata una delle stagioni migliori della mia carriera secondo me A metà gara siamo riusciti ad andare via io e viaggi e avevo quel pelo in più per poter andare via quindi per vincere davanti a tutti i tifosi Il Laguna Seca è una pista dove Stoner è sempre andato fortissimo Bisognava fare qualcosa di speciale